Anna Lu è alta un metro e sessanta, ha lunghi i capelli rossi. Sono le 17 del 23 dicembre. Esce per recarsi a un incontro alla chiesa della confraternita. Ma ci arriverà mai? Non è possibile, è un errore. Io sono innocente. Perché è il male, il vero motore di un racconto. Professore, lei non ha capito. Questo non è niente. La tempesta deve ancora arrivare. L'ha fatto, non è vero? Troppa tranquillità, uccide. Non lo sapeva. In mezzo a queste montagne credevate di essere al sicuro. Non eravate preparati a convivere con incertezza. Eravate convinti che il mostro fosse venuto da fuori. e in fondo al vostro cuore. Nutrivate il sospetto che il male fosse stato sempre in mezzo a voi. romano un piantone. Eravate la trascente. La trascente di appena nuova. Iscriviti al fondo. Quy pinici. Quy pinici. Eravate la trascente. Quy pinici. Quy pinici. Ho! Quy pinici. Quy pinici. Grazie a tutti.